salve amici oggi faccio questo video veloce veloce per vedere quando è meglio annaffiare il nostro orto e chiaramente annaffiare nel momento propizio ci darà anche dei buoni ortaggi perché la pianta non va in stress termico c'è però chi dice meglio annaffiare la sera chi dice annaffiare la mattina ma chi è che ha ragione diciamo un po entrambi vediamo il perché quando siamo in estate occorre annaffiare in tarda serata meglio poi quando è calato il sole perché questo perché se noi andiamo a mettere l'acqua fredda nel nostro apparato radicale quindi l'acqua sarà fredda proveniente da fonti da acquedotto e a contatto con il terreno dove ci ha abbattuto il sole tutto il giorno questo terreno è caldo arriva giù l'acqua fredda le radichette dei nostri ortaggi sentiranno l'acqua fredda e c'è questo shock termico da noi si dice va in calla fredda cioè c'è uno shock termico che la pianta non sopporta ecco perché occorre annaffiare in tarda serata in modo che il terreno si è oramai un po stiepidito e lo shock termico sarà inferiore poi un consiglio se avete acqua fredda molto fredda tipo da acquedotto da fontanile mettetela in un contenitore durante il giorno questa qui si stiepidirà e quindi la pianta non sentirà questo shock termico annaffiando la sera poi diamo tempo all'acqua di penetrare bene nel terreno e poi la pianta avrà quelle 8 10 ore notturne per risollevarsi dalla calura estiva mentre se noi andiamo ad annaffiare la mattina chiaramente ci sarà un evaporazione dell'acqua molto più molto più veloce altro consiglio ragazzi se avete la possibilità di mettere della paglia a pacciamare la pianta a pacciamare significa proteggere dai raggi solari che colpiscono direttamente l'apparato radicale la pianta questa qui starà sicuramente molto meglio perché l'evapotraspirazione sarà inferiore i raggi non colpiranno le radici superficiali e quindi la pianta non andrà in stress d'inverno invece conviene annaffiare la mattina in tarda mattinata perché perché se non annaffiamo la sera c'è pericolo che un ritorno di freddo vada a ghiacciare l'acqua nel terreno e quindi andare a far ghiacciare anche le radichette della nostra del nostro ortaggio e quindi la pianta ne potrebbe risentire quindi d'estate si innaffia in tarda serata meglio dopo il calare del sole invece d'inverno si annaffia subito la mattina quando il sole oramai è elevato in alto ok spero che anche questo tutorial vi sia stato di aiuto ci vediamo la prossima volta lascio i commenti aperti ciao amici bye bye ciao